Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 . Sì. . Sì. . Sì. . . Sì. . Sì. . . . Sì. . Sì. . Sì. . Sì. . Sì. Sì. . Sì. . Sì. 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 agganciato siamo stati avvistati obiettivo rilasciato obiettivo sbloccato ci hanno preso di mira nemici nella nostra base facciamoli fuori agganciato ricaricato bersaglio agganciato caro nemico danneggiato il nemico c'è nel mirino attenzione qui grazie a tutti 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 ci hanno trovato pronti a fare fuoco siamo stati avvistati il nemico sta conquistando la base attenzione su quella posizione il nemico la nostra posizione attenzione a questa zona grazie a tutti grazie a tutti attenzione su quella posizione siamo stati avvistati pronti a fare fuoco questo gli ha fatto malissimo corazzati nemici nella nostra base eliminiamoli il nemico la nostra posizione bersaglio agganciato veicolo avversario distrutto uno dei nostri è stato distrutto peccato ci rimane un solo veicolo bersaglio sganciato l'abbiamo preso bersaglio agganciato bersaglio agganciato colpo in canna bersaglio agganciato peccato pronti a fare fuoco ottimo lavoro complimenti coprepare però complimenti Grazie a tutti.